Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Sterna. Oggi parliamo di Samuel Sterna numero 48 dal titolo La Cella. Ne parliamo insieme dopo la sigla. Prima di cominciare con questo video vorrei dire due cosette, dato che siamo attorno al Luca Comics e appena finito il Luca Comics, vorrei dire innanzitutto che io quest'anno non ci sono andato, se avete seguito il mio post nella scheda community del mio canale o se mi seguite su Instagram, avete visto appunto che per cause mie personali, principalmente legate ai costi degli alloggi, non ho voluto partecipare quest'anno. Devo dire che mi sono anche trovato molto soddisfatto della mia scelta andando poi a vedere le condizioni meteo della fiera e le continue sempre peggiori lamentele riguardo alle code degli stand, in generale io direi alla gestione della mole di persone che è sempre meno contenibile. e quindi non so nemmeno se ci andrò l'anno prossimo a questo punto perché diventa davvero faticoso poterla apprezzare, per quanto io abbia adorato l'edizione dell'anno scorso ed è per questo che non ho potuto visitare, così entro un po' nel mondo Bugs Comics, non ho potuto visitare il padiglione Napoleone con tutte le novità Bugs Comics che mi sarebbe piaciuto prendere in fiera, mi sarebbe piaciuto riabbracciare Gianmarco Fumasoli, tutti gli scrittori, gli sceneggiatori, i disegnatori che erano presenti allo stand della Bugs, ma così non è stato. Così come mi sarebbe piaciuto vedere Barbara Baraldi dal vivo nella sua nuova veste di curatrice nello stand Bonelli e un altro paio di sfizi che mi sarei voluto togliere, però così non è stato, quindi... E nonostante questo voi direte ma cacchio non sei andato a Luca, eppure arrivi lungo anche sul video di Samuel Sterna numero 48, ma l'ho fatto apposta, non è che sono in ritardo, sapevo che eravate a Luca, cosa faccio? Un video, no? Lo faccio adesso, che siete tornati, siete tutti belli calmi, avete tutto il tempo per godervelo, mentre vi iscrivete al mio canale, mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone, che amano Samuel Sterna e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo mio video e ovviamente del numero stesso, ma bando alle ciance cominciamo. Questo è il terzo numero della saga dell'Apocalisse, del ciclo dell'Apocalisse, che come Fumasoli stesso ci ha detto, durerà 12 numeri e che riguarda appunto principalmente il retroscena, il passato di Samuel Sterna, i ricordi anche non corrispondenti a quello, alla verità, che ci verranno finalmente mostrati in questo ciclo. Dopo 3-4 anni di pubblicazioni, scopriamo ancora qualcosa di più sulla vita di Samuel Sterna. Questo numero, appunto, sembra sempre, questo numero che è il terzo, sembra sempre migliorare leggermente rispetto a quello precedente. Il primo della saga dell'Apocalisse, io l'ho detto, mi sembrava molto, troppo spiegoso, troppo seduto al tavolino e l'ho un po' accusata, questa cosa non mi è piaciuto. Nel secondo, manco avessero saputo la mia reazione al video, si sa che i fumetti in realtà sono pronti da ben prima, hanno diciamo mescolato il discorso un po' appunto spiegoso che c'era già nel primo numero con una seconda storyline molto più d'azione. In questo numero si continua su questa linea, non c'è una seconda storyline, c'è solo una storyline, c'è una prima parte un po' spiegosa, ma appena mi viene la parola spiegosa nella testa mentre lo leggo, inizia la seconda parte che è ricca d'azione. Questo numero si colloca anche dopo il primo numero di Singularity, ci tengo a dirlo perché appunto Singularity che è lo spin-off, uno degli spin-off di Samuel Stern è uscito qualche tempo fa per chi non l'avesse ancora letto non è uno spoiler però parla diciamo della nascita della gente Starfish nascita della gente Starfish che comunque abbiamo già visto anche in un paio di vignette nel numero 7 di Samuel Stern all'agenzia nel numero 1 di Singularity è stato spiegato con un fantastico colpo di scena un po' tutto retroscena di quello che c'è stato dietro alla nascita della gente Starfish non alla nascita della gente Starfish alla mutazione della gente Tooms che gli ha causato dei tentacoli a forma di stella marina sulla testa ci tengo a dirlo che questo numero è ambientato dopo perché c'è uno scambio di battute tra Samuel Stern e l'agente Starfish in cui Starfish dice non siamo riusciti a contattarti prima a tenerti in contatto prima Samuel perché ci sono state delle complicazioni in Singularity nell'agenzia ora quelle complicazioni non sono quelle viste nel numero 1 perché quel numero 1 è molto vecchio temporalmente ci saranno state altre complicazioni che magari vedremo nel numero 2 confermatemelo qui sotto nel caso stia dicendo una cosa corretta ovviamente sto parlando agli autori non ai medium o ai veggenti scopriamo anche che questa è la prima volta che è Samuel a contattare Gillian a contattare l'agenzia e non viceversa perché appunto l'agenzia sa molto di Samuel Stern e Samuel Stern è finalmente pronto a sentire quello che hanno da dire quasi mi scoccia a dirlo in realtà non è vero avevo indovinato il fatto che Samuel Stern è stato un posseduto non dico che è stato il primo posseduto ma sicuramente prima di essere posseduto lui non praticava gli esorcismi sugli altri come sapete Samuel è un catalizzatore delle ombre delle forze oscure e mi sembrava strano che fino ad ora con tutto quello che ha passato perché lui sappiamo benissimo che ha un'ombra che è la morte l'assassinio della moglie di fronte ai suoi occhi per opera di un tizio qualunque e anche lì è una cosa un po' strana avevo anche accennato che potessero essere dei falsi ricordi che abbiamo visto nel numero non so quale siamo esterni il processo credo il 17 ma potrei sbagliare qua scopriamo non ci hanno detto se appunto l'uccisione della moglie è stata appunto per opera di un malintenzionato qualsiasi che poi è scappato e quindi non sappiamo se quella parte è un falso ricordo però Gillian sta accennando a Samuel che i ricordi che lui ha su quello che è successo dopo la morte di sua moglie sono fittizi ricordi fittizi suona un po' di Deus Ex Machina ma suona anche un po' di ricordi falsi di Wolverine che nei numeri degli X-Men e di Wolverine stesso hanno usato come scamotage per aggiustare il tiro sulla sua storia qui appunto scopriamo che ci sono dei ricordi falsi non credo sia per aggiustare il tiro perché io credo che la Bugs abbia una bibbia molto fedele e molto sa perfettamente dove vuole andare a parare con la storia di Samuel semplicemente i ricordi sono falsi a livello metanarrativo perché non ci volevano dire tutto subito adesso forse pian pianino iniziano a dirci le cose come sono andate veramente quindi come avevo presunto Samuel Stern è stato posseduto e probabilmente poi dopo questa sua possessione ha deciso probabilmente è stato preso sotto l'ala di padre Duncan o comunque padre Duncan lo ha portato con sé negli esorcismi e ha diciamo coltivato questa capacità di Samuel che sappiamo c'è fino fin da quando era bambino per sfruttarla verso il bene allora ho detto una piccola cavolata non è vero che non c'è una storia secondaria una storia secondaria c'è però è talmente accennata appena accennata che come si può dire non la considero neanche la considero un piccolo prologo a una storia secondaria che è quella di padre Duncan che magari vedremo sviluppata meglio nei prossimi numeri comunque giusto per dire padre Duncan va a Roma viene convocato da Roma in persona come tutte le storie di finzione sul cattolicesimo sulla santa sede e sulle gerarchie ecclesiastiche i cattivi non comprendono come si dice non comprendono mai il papa che è sempre all'oscuro di tutto perché il papa è una figura buona che non si può toccare se non appunto in storie magari non lo so distopiche però il papa nelle storie narrative diciamo nelle commedie nelle storie dove le cose vanno a buon fine è buono ma ci sono i cardinali sotto che sono sempre degli stronzi e in questo caso c'è appunto una diciamo una sottosezione a Roma del Vaticano che si occupa di queste cose dei posseduti degli anticristo e vedremo un po' dove andranno a parare di questa associazione faceva parte anche padre Cornelius prima appunto di andarsene e mettersi in proprio diciamo per salvare a modo suo i figli del diavolo i piccoli anticristo probabilmente proprio quando quella sottosezione del Vaticano aveva preso una piega molto per citare Gillian da Erode scopriamo solo in questo numero che anche Gillian aveva una figlia e l'ha persa l'ha perduta perché si era offerta volontaria per essere una dormiente per aiutare papà nel aiutare nel combattere le forze del male pensavo che sua figlia fosse proprio Morgan di Singularity quando c'è stato uno scambio di battute tra Samuel e Gillian non pensare di essere l'unico che ha sofferto che ha perso e Gillian faceva proprio riferimento a sua figlia che non è Morgan ma è un'altra persona che abbiamo visto appunto sotto un'altra forma durante questa storia presumo che a questo punto Morgan sia una sorta di figlia acquisita di figlia putativa che ha perso anche nel numero uno di Singularity in un certo senso questo numero come tutti i numeri che vanno a toccare la macro trama di Samuel Stern non ha grosse metafore su cui si può disquisire semplicemente vado a approfondire la storia narrativa del personaggio e il mondo che sta attorno a lui mi piacerebbe un po' scoprire meglio queste nuove trasformazioni dei posseduti che appunto diventano sembra che diventino degli incarnati in un certo senso diventano dei demoni veri e propri perché all'inizio non è stato spiegato che un demono in fase finale diventa così però ecco mi piacerebbe un attimino capire come funziona la meccanica di queste possessioni è chiaro che c'è un'infiltrazione tra in Singularity da parte di persone possedute vi ricordo sempre che ci sono diverse fazioni ci sono i demoni posseduti che ce l'hanno un po' con Samuel Stern perché Samuel Stern non si è schierato dalla parte dei demoni e i demoni sono contro il demonio sono contro il diavolo che qui viene chiamato l'informe io uso un termine molto più cristiano perché così magari si capisce meglio quindi ci sono tre fazioni ci sono l'informe che vuole portare tutti i demoni in legione ci sono i demoni che si sentono figli dell'uomo esattamente come gli umani e poi ci sono gli angeli che appunto vogliono combattere tutti padre Duncan è dalla parte degli angeli Samuel Stern non sa bene da che parte stare di certo non sta dalla parte degli angeli sicuramente anche dalla parte degli angeli ci sono fazioni molto più cattive molto più inclini all'omicidio e quindi vedremo anche la posizione futura di padre Duncan su questo non vedo l'ora di vedere una grande bella apocalisse personale di Samuel Stern in questo numero non viene coinvolta una persona tra i comprimari ci hanno lasciato in sospeso Angus per un paio di numeri penso che lo rivedremo proprio sul finale dell'apocalisse perché adesso Samuel Stern sta viaggiando penso che vedremo anche l'apocalisse personale di padre Duncan in ben più di un numero probabilmente nel suo viaggio a Roma e poi ci concentreremo penso su Penny che non è ancora stata toccata per ora è stato toccato solo Cran dei quattro cavalieri dell'apocalisse mancano Penny padre Duncan e Angus a cui ci hanno già accennato qualcosina ma credo che se lo terranno per ultimo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia se siete curiosi se questa questa narrazione così orizzontale vi sta entusiasmando o vi sta facendo venire voglia di prendere i restanti numeri e vedere come va a finire oppure se preferite una narrazione più alla Dylan Dog insomma scrivetemelo qua sotto nei commenti o come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con le inchine e con le muto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video